Il concorso fotografico che l'Associazione L'Altra Casa promuove per il terzo anno consecutivo, quindi siamo alla terza edizione, quest'anno ha il tema della speranza, quindi il titolo del concorso è Io spero. Quest'anno chiederemo ai partecipanti di fotografare in maniera creativa e personale la speranza, un concetto astratto che secondo noi si presta per essere immortalato in una fotografia. La formula del concorso è simile a quella degli anni precedenti, quindi riceveremo le fotografie da tutta Italia, così come è successo nelle precedenti edizioni, che possono essere inviate attraverso la nostra email istituzionale che è www.ascult.l'altra casa.gmail.com oppure andando a visitare il nostro sito che è www.associazionell'altra casa.blogspot.it dal quale potete scaricare, si potrà scaricare il bando per partecipare al concorso. Le fotografie potranno essere inviate e quindi ricevute fino al 20 dicembre e saranno in mostra dal 23 dicembre fino al 3 gennaio presso la biblioteca comunale di Scalea intitolata Gregorio Caroprese. Le fotografie saranno premiate, quelle insomma ritenute le migliori, da una giuria popolare, quindi i visitatori che verranno a visitare la mostra fotografica potranno esprimere con un voto il proprio giudizio e partecipare in questo modo alla premiazione della foto più bella e ci sarà anche una giuria tecnica composta dai fotografi della zona. Quest'anno avremo anche un premio speciale che sarà assegnato dall'associazione L'altra Casa.